Cosa fare in caso di terremoto? Quali azioni adottare in caso di allagamento? A queste domande risponde la campagna informativa del Dipartimento di Protezione Civile denominata Io non rischio, iniziativa a cui prende parte anche il Comune di Pescara con l'obiettivo di offrire alla cittadinanza, attraverso i volontari della protezione civile presenti nelle piazze, le conoscenze necessarie per fronteggiare le situazioni di pericolo. La protezione civile non è soltanto un pronto intervento, ma è prevenire. Quindi abbiamo inteso con altre due associazioni, quindi la protezione civile comunale, la protezione civile senza frontiere e la misericordia, abbiamo deciso di fare tre gazebo informativi a piazza Saclocuore domenica 13 a partire dalle ore 9 fino alle ore 18 del pomeriggio in maniera continuativa. Saranno i volontari mischiati per dare proprio senso della comunanza, delle problematiche relative alla protezione civile comunale. Quindi invito tutta la cittadinanza a intervenire perché in quell'occasione i volontari stessi, che sono oggettivamente molto preparati, potranno dare loro spiegazioni in caso di calamari naturali o come prevenire eventuali situazioni. In caso di alluvioni, di non sostare sotto i pondi, se le piogge sono torrenziali, anche chi abita a piano terra, di salire nei piani più alti, di non rimanere a livello stradale. Quindi parliamo di alluvioni perché sono sempre più frequenti? Di terremoto, anche se Pescara non è proprio una città del terremoto, però spiegare che anche nella propria casa di avere delle accortezze per quando riguarda determinati mobili oppure di non mettere dei vassi sopra al letto, per dire, degli oggetti più che altro, perché se c'è un terremoto è la prima cosa che può accadere e quindi di conseguenza ci sono gravi fatti.